Il presidente della squadra Granata ha ancora pochi giorni per sanare i ritardi nei pagamenti dei tesserati. Lei che ha seguito le vicissitudini della società è preoccupato o è fiducioso? Preoccupato, molto preoccupato. Nel senso che anche se le normative purtroppo consentono ai presidenti di sanare queste posizioni anche in un'unica volta, entro il 30 di giugno, senza tenere conto purtroppo che i ragazzi che giocano a calcio a questi livelli percepiscono un rimborso spese con il quale ci mandano avanti le famiglie, però purtroppo la normativa lo consente quindi se viene sanato tutto fino al 30 giugno va tutto bene. Noi siamo molto preoccupati, si sa che storicamente seguo l'alma siamo molto preoccupati perché in questi ultimi anni purtroppo si è passati dall'alma di Gabellini che faceva smagonare tra virgolette in serie C per affrontare il Padova oppure la Reggiana oppure il Modena siamo passati a un'alma in serie C, a un'alma in serie D sotto Fidani un'alma in serie D con Russo che si salva all'ultimo secondo negli ultimi anni con varie vicissitudini una bellissima annata l'anno scorso con Russo in serie D quest'anno si è mandato tutto per aria, arriva questo presidente e ricordiamoci che nel campo, sul campo l'alma purtroppo è retrocessa in eccellenza quindi è toccato uno dei punti più bassi adesso c'è lo spettro anche del fallimento perché se entro appunto fine mese non vengono corrisposti gli monumenti ai ragazzi che hanno giocato nell'alma quest'anno le liberatorie ovviamente non vengono firmate quindi addio a possibilità di anche fare un campionato di eccellenza che già di per sé per Fano è una cosa abbastanza deprimente ma c'è lo spettro appunto del fallimento per cui fiduciosi bisogna esserlo fino alla fine sempre ok però siamo molto preoccupati perché questa è l'ultima settimana poi se domani mattina il presidente salda tutto e fa tutto quello che si deve saremmo i primi a dirgli bravo però in questo momento la tifoseria fanese è molto 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 preoccupata e va sottolineato purtroppo anche una mancanza della politica perché per quanto è vero che l'alma Juventus Fano è una società privata però faccio sempre il paragone con la Virtus che portano in giro per l'Italia il nome di Fano e quindi ha un certo onore sulle spalle queste società private però l'amministrazione sedi totalmente assente nei confronti dell'alma Juventus Fano di insomma capire come stava evolvendo la situazione la nuova amministrazione si è appena insediata vediamo cosa faranno, speriamoci bene speriamo che se ne preoccupi anche questa nuova amministrazione un po' di più di quello che ha fatto la passata perché se no qui ci ritroviamo lisci lisci da fare la Serie C appunto come dicevo con quelle gloriose società a dover pregare e sperare di riuscire a fare un campionato di eccellenza per noi tifosi storici o vecchi diciamo così è una situazione molto molto avvilente siamo molto preoccupati grazie mille grazie mille